Non ti preoccupare, ottimismo Silvia, ottimismo! Che schifo! Porca trota! Abbiamo rifiutato il trasferimento a Milano, mi sono spacciato per disabile. Beh, non voglio disturbarla ulteriormente. Vai, arrivederci! Vicenziato, trasferito. Al sud. Al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino a Napoli. A Napoli? Ci resterai due anni. Due anni? Oh mia bella madunina, che te brille e te lontano. Ma perché mi hanno detto che qui al meridione facciamo un gran caldo? Prima la posta la portavano i cammello, poi il direttore erano bad will. Che fa poveri, piglia per il culo. Mi hanno mandato, apposta per farvi lavorare. Quindi cerchiamo di ottimizzare il lavoro. Grazie. No, è l'odore di una fedalina che mia mamma la mette a buco. Ma perché ci sono i topi? Eh, i topili saranno. Io non mi sto pestando. La vivono qui. No, s'hanno fettato monologale a fianco. E tu? Quella è cioccolata, mischia dal sangue di maiale. La metterli così sembrano normali. Chiudono, chiudono! In realtà sono scuri, piccoli, tra cagnotte. Buongiorno a tutti. Se gli fai vedere che hai le palle, scappano. Non mi costringa a metterle una nota a disciplinare. Potrò mai ne va a uso. Non farei temerare come il tuo solito, eh. Direttore! Eh, direttore? Eh! San Pino, eh! Ah! Chiudono! Non capitate paura, direttore? Vi voglio fare una sorpresa. Ognuno di noi ha messo qualcosa. Per cominciare può andare bene, no? È meraviglioso. Quant'è? Noi l'abbiamo fatto per amicizia. Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno. Poi ci conosceremo. Che si fa stasera? Abbiamo organizzato niente? Direttore. Verdi. Non tornate a casa. Direttore quando un forestiero viene al sud e piange due volte. Quando arriva è quando parte. Io adoro il sud! Io domani vengo lì da te. No! Non puoi venire da me. È pericolosissimo. Arrivano! Arrivano! Non puoi venire da me. Sì! Sì! Sì!